Adesso... Stronzo! Questo è quanto il fosso eh? Stronzo! Ma questo è pericoloso! Fai in là, sta guardando! Porca Madonna! Scemo! 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 Sua eccellenza il vescovo del Burundi Randi Dio Bono E' la frenata! V'ha rubato la panchina eh? Guarda che... Filipe! V'ha rubato la panchina! Eh beh adesso... adesso le devo riprenderla no? Eccoli i gangster tutti! Gli ha rubato la panchina però! Ma avrete ripreso la panchina subito? Scemo rimpossessati del teatro! Ma voi siete dei delinquenti! Teppisti! Gangster! Appena sono arrivati via sono scappati! Ma pensa tu! Che vuoi fare? Che bulletto! Che è arrivato il bulletto del vigoletto! Eh! E la gente si è spaventata!